Altro appuntamento di prestigio per l'Aquila di Giovanni Pagliari che dopo la splendida vittoria contro il Bologna domani sarà di scena ad Empoli per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Questa mattina i Rosso-Blu hanno effettuato la consueta rifinitura sul campo di San Gregorio con l'entusiasmo di chi sulla carta non ha niente da perdere. Lo stesso responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola è fiducioso e ha stabilito le tre parole chiave per la sfida contro i Toscani, cuore, serenità e spensieratezza. Serviranno queste tre caratteristiche per poter ottenere un altro storico passaggio del turno. Per quanto riguarda il mercato pare che si sia trovato l'accordo con Mario Pacilli e anche il terzino del Brescia, Boccaccini, è a un passo. Lo stesso De Sousa, cercato negli ultimi giorni dalla Torres, vuole continuare a vestire la casacca Rosso-Blu. Prima però bisogna pensare alla sfida del Castellani, una sfida che potrà dare ulteriore fiducia per il prossimo campionato di Lega Pro. L'Aquila infatti ha rinunciato alla domanda di ripescaggio in Serie B e preferirà risparmiare energie e risorse per conquistare un'eventuale promozione sul campo. Scelta saggia quella del presidente Corrado Chiodi, riconoscere i propri limiti non è un difetto ma una grande virtù.